Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! We can! Yeah! È stata una pasquetta impegnativa in costiera amalfitana per gli uomini del soccorso alpines per lo logico della campagna. I tecnici, allertati dal centralino del 118, si sono recati nei pressi di un sentiero a minori, in via Riola, per soccorrere un 19enne originario di Salerno, che mentre trascorriva la giornata in escursione con un gruppo di amici, è scivolato precipitando per circa 4 metri. L'allarme, subito lanciato dalla commitiva, ha permesso ai tecnici di localizzare in breve tempo il ragazzo ferito, che è stato medicalizzato e successivamente imbarellato, prima di essere trasportato fino al punto in cui attendeva l'ambulanza. Un altro intervento, che ha visto coinvolti i soccorritori, ha avuto luoghi in località Cospiti, nel comune di Acerola, per dare aiuto ad una 67enne di nazionalità tedesca, che durante un'escursione si è lesionata una caviglia. L'allarme è stata lanciata al 118, che ha prontamente avvertito i tecnici, che si sono subito recati in direzione di Acerola. Mentre un elicottero del stesso reparto volo della Polizia di Stato, si è diretta a Capri, per prelevare due elisoccorritori del centro alpino e speleologico per portarli in zona. La donna, raggiunta dalle squadre di terra, è stata prima stabilizzata dai sanitari e poi recuperata mediante l'ausilio del vericello, per essere ritrasportata fino al campo sportivo di Acerola, dove la attendeva l'ambulanza del 118.